I rilevamenti indicano che l'aria è sicura. Allora, presto avrò qualcosa di sì, ma per ora è noto. Ora torno a loro. Attenzione, stai abbandonando l'aria sicura. 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 Ecco pronto alla riproduzione nelle vicinanze. L'aria sicura. Attenzione, stai abbandonando 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 l'aria sicura. Stai abbandonando l'aria sicura. Attenzione, stai abbandonando l'aria sicura. Stai abbandonando l'aria sicura. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti